Notte di carnevale, piuttosto movimentata. Accade tutto in via Fontanella a Caltagirona, la cui zona si riferiscono le immagini. Fatti e dinamiche sono ancora tutte da ricostruire al vaglio degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. Ciò che non è passato inosservato è semmai l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti per trastrarre dalle lamiere contorte di una Fiat 500 uno degli occupanti della vettura che sarebbe rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Gli eventi sarebbero riconducibili a un presunto inseguimento che sarebbe avvenuto con gli agenti di una volante. E proprio in questo tratto di via Fontanella il conducente della 500, dopo aver perso il controllo, si è ribaltato. I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Grevina con a seguito gli agenti del commissariato che li hanno piantonato. Spetterà all'autorità giudiziaria a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Allo stato attuale trattasi di notizie frammentarie dalle quali ci sono diversi aspetti da chiarire. Uno su tutti del perché i tre sono stati inseguiti da una volante della polizia, oltre alla dinamica dell'incidente cui dovranno in questo caso fare chiarezza i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone, che sono stati chiamati per competenza a compiere i rilievi. Una notte insomma che è sicuramente passata inosservata per l'assenza di manifestazioni carnacialesche a Caltagirone, ma che è stata assai movimentata con inseguimenti e tre persone fermate dalla polizia. Potrebbero essere infine anche le immagini del sistema di videosorveglianza di una delle attività commerciali di via Fontanelle a chiarire l'esatta dinamica di questi fatti. Seguiranno altri aggiornamenti su questi eventi.